Qui abbiamo un esempio di sobare atmosferiche, i numeri dovrebbero indicare i millibar o gli etto pascal che è lo stesso, sappiamo che la pressione atmosferica media vale un'atmosfera che sono 1,013 bar e se esprimiamo i millibar viene 1013, quindi un'atmosfera è 1013 millibar. Allora qua sulla carta vediamo che ci sono zone dove la pressione atmosferica quel giorno è superiore ai 1013 millibar, sono le zone contrassegnate da alta pressione, 1020, 1024, 1028 millibar su tutta questa linea, lo stesso c'è alta pressione qua, 1024 millibar. Le zone di bassa pressione invece si trovano dove la pressione atmosferica quel giorno è inferiore al valore medio annuale, per esempio 976-980 millibar. Vediamo anche che le fluttuazioni della pressione atmosferica sono abbastanza piccole rispetto al valore medio che è 1013 millibar, non è che la pressione raddoppia o di mezza ma oscilla in basso all'umidità dell'aria di poco attorno al valore medio.